ok, prossima missione ah, la diastronomia la diastronomia pensavo di poter contare sulla mia amica coraggio, dimmi che ti passa tra la testa no, per niente mancavano solo due campane ma quella lì ha dovuto rovinare tutto temo di non seguirti chi ha rovinato cosa? e che campane? il professor Black ha ordinato al signor Moon di tirar giù le campane della torre campanaria gli fanno venire le micranie quelle campane fanno parte di Hogwarts non potevo permetterlo così ho chiesto alla mia amica Adelaide di aiutarmi a rimetterle a posto siamo sempre state un duo Adelaide ed Evangeline Addie e Evie comunque stava filando tutto liscio finché Black non ha iniziato a fare domande e lei si è sentita a disagio per la nostra infrazione così ora sono bloccata non so dove mettere le campane rimanenti potrei aiutarti io a rimettere a posto le campane davvero? sarebbe meraviglioso sono nella torre campanaria sopra la sala della musica sicuramente sei più di aiuto di Adelaide immagino che le campane si trovino all'interno della torre campanaria andiamo qua a queste campane pul attenti fantastico ah, le campane saranno di sopra ascio l'ingaglio leviosa alò, mora l'ingaglio leviosa ah, devo andare fu dove è finita? lì andiamo, torniamo su no, di qua oh ah, trovate dovrò portarle lassù in qualche modo forse con l'ingaglio leviosa e l'ingaglio leviosa l'ingaglio leviosa e l'ingaglio leviosa e l'ingaglio leviosa non sopra l'ingaglio leviosa l'ingaglio leviosa no, secondo me questa va qua ok come faccio? ah, dove è finita? andiamo a show un'ingaglio leviosa io è ritrovarla quella campana ma che mi è caduta un'ingaglio leviosa non sopra proviamo a uscire magari fu che ne so io no, direi che è qua magari con un'ingaglio leviosa mi riesco anche a beccare si si ah, eccola l'ingaglio leviosa l'ingaglio leviosa su ok andiamo andiamo ok ok vieni dai e su vai 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 Non è stato troppo impegnativo, Evangeline ne sarà contenta, anche se non lo sarà Black. Ma chi ce ne frega il trascide, insomma, a lui ci piacciono le campane. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Le campane sono di nuovo al loro posto. Sei un vanto per questa scuola. Non vedo l'ora di ascoltarle e che le ascolti il preside. Quanto vorrei poter vedere la sua espressione. Forse le generazioni future non apprezzeranno appieno ciò che hai fatto, ma io sì e spero che lo faccia anche tu. Tranquilla. Non hai idea di quanto questo significhi per me e per Hogwarts. Non ciò. Non ciò che fai la cosa. Non ciò che vuoi!